Allora Hanno suonato il campanello di casa Vasari ma nessuno gli è aperto il museo era infatti chiuso come spiegano dalla finestra Non l'hanno risata ma non c'è più questa riunione Ah quindi non è possibile fare nulla oggi? Ah va bene, non avete autorizzazione E' andata così a vuoto la perizia per stimare il valore del prezioso carteggio dell'archivio Vasari 31 filze che contengono anche le lettere di Michelangelo per il quale è stato disposto l'esproprio Questa mattina ad Arezzo era atteso infatti Filippo D'Averio noto critico d'arte ed individuato dal giudice Antonio Picardi come super esperto che però non è mai arrivato Si è accesa così la protesta del perito di parte della famiglia Fessari il professor Renato Sagiori e del loro legale che ha annunciato il ricorso e la denuncia ai carabinieri Faremo degli esposti, faremo delle valutazioni in tal senso vedremo cosa si può ravvisare in questo comportamento tenuto conto anche che non è stato revocato che non ha rinunciato, non è stato revocato dal giudice e quindi è tuttora membro della commissione ed è il giudice che deve eventualmente revocarlo non certamente la sovrintendenza Io avevo bisogno come esperto di parte di vedere i documenti originali per poterne affermare dopo dare il mio giudizio, dare la mia valutazione e questa cosa qua mi ha resa impossibile e questo bisogna prendere atto della situazione e cercare di capire perché le cose vanno in questo senso Lo Stato non fa altro che deve preservare le cose e questo ne sono perfettamente d'accordo ma deve rispettare anche quello che sono i diritti dei proprietari Assente questa mattina anche il perito della sovrintendenza che ha comunicato comunque di aver svolto la propria perizia e di aver inviato una relazione scritta al Tribunale di Arezzo Resta ancora dunque da stabilire il prezzo di indennizzo che lo Stato dovrà versare ai fratelli festari per le carte vasari Il decreto di esproprio parlava di un milione e mezzo di euro una cifra ritenuta irrisoria dagli eredi che dieci anni fa avevano ricevuto un'offerta da un magnate russo di oltre 100 milioni Non credo che nessuno al mondo che sia sano di mente darebbe 17 lettere di Michelangelo Buonarroti olografe con disegni, sonetti di un'importanza unica senza contare tutto il resto a un milione e mezzo se lei lo conosce me lo presenti perché glielo vado a comprare